Buongiorno ragazzi, oggi siamo alla cascata del Torce, in teoria dovrebbe essere in Piemonte, adesso non so di sicuro dov'è, questo è il canalino che arriva, adesso vi faccio vedere la parte della cascata. Che paesaggi eh! Dove il baretto, sapere il baretto dove ha preso il caffè. E adesso andiamo giù, qui sotto c'è un po' il portino, da fare, così vediamo la cascata dal basso. Stiamo arrivando nella parte bassa della cascata, dove cade ovviamente, prima eravamo lì sopra noi, abbiamo fatto le foto e i video. Eccola qui, siamo proprio sotto, sto usando la grande angolare, quindi non prenderà acqua. dopo la cambio. Possiedendo l'idea, è molto molto bella questa cascata del Torce. representative di Torce. Facciamo il approccio, mettiamo nuestro tipo, Grazie a tutti E' arrivato un po' Già arrivano anche rispettivate Adesso stiamo tornando dalla scatola del Tochi Abbiamo fatto un bel picnic diciamo Panini con la morta del salame E adesso torniamo giù e ci vediamo un'altra volta Ciao